Per i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'editore La Terza ha ideato un evento che si svolgesse quasi in contemporanea in 10 scuole, seguendo il filo rosso l'Italia unita a scuola. A Torino il dibattito presso l'Istituto Avogadro era incentrato sul tema del lavoro. Abbiamo rivolto qualche domanda ad alcuni dei relatori. Giuseppe Culicchia, scrittore, ha pubblicato numerosi romanzi. Il primo è Tutti giù per terra. Massimo Salvadori, storico, in passato impegnato in politica. Luciano Gallino, sociologo, autore del libro Il lavoro non è una merce. Marco Revelli, storico e sociologo, presidente della commissione d'indagine sull'esclusione sociale. L'è mai capitato di sentirsi sfruttato in ambito lavorativo? Sì, mi è capitato quando ero più giovane, adesso non lo sono decisamente più, ma quando avevo 20 anni mi è successo di sentirmi sfruttato, di sentirmi dire che non potevo chiedere un permesso per dare un esame all'università. Venni licenziato dalla libreria in cui lavoravo. Credo che sia una condizione naturalmente sempre più comune in realtà. Che cosa vuol dire che il lavoro sia mercificato? Il mercato del lavoro è il punto d'incontro tra l'impresa e il lavoratore. Il lavoratore può fornire del lavoro, l'impresa può utilizzarlo o no. Se il lavoro è abbondante, cioè se ci sono tanti giovani ad esempio che si offrono per lavorare e le imprese non hanno molto bisogno di lavoro, il prezzo del lavoro scende come quello di qualsiasi altra merce. Se l'offerta il lavoro è scarsa e le imprese ne hanno molto bisogno, la merce vale un po' di più e il suo prezzo sale. Il lavoratore è sempre considerato dai padroni, dai dirigenti, dai proprietari, dagli azionisti sono stati uno strumento per fare profitto. Il lavoratore è praticamente solo dinanzi all'impresa che chiede il suo lavoro. Quindi è in una situazione di sostanziale debolezza. I sindacati sono nati secoli fa appunto per contrastare questa debolezza e sarebbe più importante che mai difendere l'attività, la presenza, l'incidenza del sindacato proprio per far sì che anche se si finisce a considerarlo come una merce il lavoro sia un po' più protetto, un po' più difeso, un po' meno debole dinanzi alla forza enorme dell'impresa anche se piccola. Quali possono essere le conseguenze sulla storia d'Italia collegabili al funzionamento del lavoro di oggi? Io credo che oggi noi ci troviamo nel nostro paese in una situazione di estrema gravità. La ricchezza prodotta e disponibile è estremamente squilibrata. Come l'Istat ha ricordato poco tempo fa il 10% della popolazione italiana dispone del 45% del reddito nazionale e in questo ambito i lavoratori in generale sia occupati che precari e nella categoria di precari dobbiamo mettere in prima fila i giovani, hanno delle prospettive estremamente difficili che costituiscono direi il problema dei problemi del futuro della nostra società. La precarizzazione è stata paragonata a un cancro perché corrode le basi stesse dell'esistenza collettiva e individuale. Una vita da precario è una vita esposta costantemente all'incertezza, è una vita nella quale non si può progettare e programmare se stessi. Perché è così comune lo spremere i lavoratori e poi buttarli via? Si pensava che rendendo le imprese libere dinanzi al lavoro, nel senso di poterne fare a meno, di poter licenziare i lavoratori in qualunque momento, questo producesse maggior occupazione. Non è stato affatto così. La libertà di licenziamento favorisce soltanto le imprese e in una certa misura nemmeno esse perché i lavoratori che cambiano continuamente grazie al fatto che se il mercato tira l'impresa assume, se il mercato non tira l'impresa licenzia. Non si forma né l'attaccamento del lavoratore con l'impresa e con il proprio lavoro, né si sviluppa quella professionalità, quella conoscenza del mestiere, del posto, del materiale, della tecnologia che è indispensabile per fare dei buoni lavoratori. Quanto il precariato contribuisce a creare esclusione sociale? Contribuisce molto. L'esclusione sociale significa che una categoria di persone subiscono una condizione, un trattamento radicalmente diverso da quello degli altri loro concittadini. In genere è legata alla povertà. Povertà ed esclusione camminano insieme. Un cittadino povero e un escluso. È colui che è costretto a vivere in condizioni talmente diverse dagli altri che è come se vivesse in un altro Stato, come se vivesse in un altro Paese. La precarizzazione contribuisce a questo effetto di caduta fuori. Il precario vive una vita qualitativamente diversa dal garantito e quindi non necessariamente, ma i rischi di esclusione sono alti. Che tipo di reazioni di accomodamento o di rifiuto sono immaginabili da parte dei lavoratori? Immaginare è un'impresa veramente troppo complicata. Quel che capita nella storia sorprende assai più di quanto non si possa prevedere. Quello che mi sentirei di dire è che questa situazione può produrre due reazioni di tipo diverso. Una crescente subalternità ai problemi che gravano sulla società italiana oppure una reazione crescente per la riaffermazione di diritti negati. Si andrà verso una combinazione di una parte della società italiana che accetta supinamente e un'altra parte che invece reagisce e cerca nuove vie di sviluppo civile e anche economico-sociale. Questa è la condizione operaia. Lo è stata fin dall'inizio della rivoluzione industriale inglese di fine Settecento e attraverso tutti i mutamenti che pure vi sono stati è quella che continua ad essere, a perdurare. Il lavoro è una parte essenziale della persona, è una parte dell'identità, è una parte della sua storia, è una parte dei suoi affetti, è una parte dei suoi legami con il mondo. Non dovrebbe essere ridotta soltanto a una merce che vale 3 euro l'ora se abbondante e 20 euro l'ora se invece è scarsa. L'arretramento dei diritti dei lavoratori è sempre più forte. Il lavoratore oggi è posto sotto un ricatto anche violento da parte di un mondo del lavoro che può benissimo fare meno di ciascuno di noi perché moltissimi altri sono lì in fila che aspettano di sostituirlo e poi oltretutto c'è questa questione tragica della competizione con paesi come la Cina, come l'India dove i lavoratori non hanno diritti in realtà. La globalizzazione non è nient'altro che l'esplosione del mercato al di fuori dei confini degli stati nazionali e quindi la crescente difficoltà del potere politico di controllare, regolare, garantire che gli scambi di mercato avvengano in un quadro normativo. Secondo lei nel momento attuale lo Stato è un soggetto abbastanza forte da avere la capacità di contrattare con le grandi multinazionali nell'ambito del diritto del lavoro? Il problema è esattamente questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.